ciao a tutti qui dall'accademia del fantacalcio in questo video come vedete vi farò vedere vi consiglierò quali giocatori prendere per l'atalanta sto usando l'applicazione di fantacalcio.it che secondo me è la più completa che ci dà i dati le informazioni le statistiche dei cacciatori che vi faremo vedere qua e oggi vi lascerò dei consigli importantissimi il primo consiglio che vi do è che il centrocampo dell'atalanta è un po un casino perché è molto forte ma ci sono tantissimi ballottaggi cioè adesso vi faccio vedere meglio guardate qua malinovski e freule e freule castagne e gozen freule e malinovski insomma ci abbiamo tantissimi ballottaggi tra questi cacciatori l'unico che si salva tra questi ma non è un cacciatore che ti può dare tantissimi bonus e vi faccio vedere nel dettaglio è il nostro carissimo derun ok non è un calciatore che ti dà molti assist o gol è solo costante quindi non vi consiglio di prendere come titolarissimo per la tua squadra ma è l'unico che da quello che ci risulta che giocherà sempre è vero che l'atalanta avrà anche la champions quindi questi centrocampisti diciamo che in molti casi si alterneranno giocherà uno giocherà l'altro e così via ma non mi dà sicurezza comprarne per esempio castagne sapendo che è in ballottaggio se tu hai gli altri centrocampisti è un conto se non ce l'hai non vi consiglio di comprare tranne derun se vuoi uno costante da spendere poco relativamente poco non vi consiglio di prendere i centrocampisti dell'atalanta ma vi consiglio di prendere e iniziamo dalla porta golini perché un calciatore adesso che si è formato bene l'anno scorso non ha giocato sempre titolare ma quando ha giocato ha giocato molto bene e come andiamo a vedere solo le sue statistiche sarà di sicuro il titolare vedete che l'indice di titolarità è al cento per cento praticamente anzi è al cento per cento è stato scelto il primo portiere in assoluto della squadra ed è un portiere che è molto bravo molto reattivo e che secondo me in questa stazione farà molto bene se avete la possibilità di prendere uno tra i cinque migliori parlo di donnarumma andanovic cesni depo e così via e anche emeret perché no a questo punto scegliete questi non scegliete golini però lo metto lì perché insieme a dragovski secondo me saranno diciamo i portieri rivelazione del campionato andiamo avanti e vi consiglio di prendere in questo caso titolarissimi io li metterò il titolare nella mia squadra toloi e skirt perché entrambi vi faccio vedere anche skirt perché è arrivato adesso è un giocatore che fa molti bonus perché è un giocatore che sa anche inserire come toloi toloi ci ha abituato la stagione scorsa a segnare tanti gol a entrare e colpire le difese avversarie cioè lui è sia un difessore centrale ma anche uno che sa di testa colpire e che si sa anche inserirsi bene nelle difese degli altri quindi sono molto interessanti questi centrocampisti qua come vedete questo è un leader sarà il leader della difesa un giocatore con molta esperienza io lo prenderei di sicuro questo sì anche come titolare e toloi andiamo a vedere dei suoi dati come vedete ha fatto un assist un gol anzi tre assist un gol e venne ammunito pochissimo è vero che è stato espulso però una munizione un'espulsione c'è veramente poco pochissimo ed è uno che porta molti bonus perché qui mettono di buoni vuote qualche bonus però secondo me questo non porterà tantissimi bonus come l'anno scorso perché comunque ha fatto tre assist è sempre lì fa gole eccetera palomino invece lo escluderei non lo prenderei nella mia squadra se andiamo avanti invece a vedere gomez beh lui ci dà una sicurezza perché la cosa più interessante di questa stagione è che sarà centrocampista cioè lo puoi prendere come centrocampista ma è chiaramente un attaccante aggiunto sarà un trequartista ma sappiamo bene che un campionato segna è un leader fa assist gioca sempre perciò io lo prenderei di sicuro per la mia squadra indice sicuro anche lui cioè indice ha un giocatore fortissimo che lo conosciamo non è molto costante però un calciatore che quando diciamo quando è la sua giornata diciamo così è un giocatore che fa molti gol e molti assist quindi lo prenderei di sicuro per la mia squadra anche lui come vediamo ha fatto 12 gol quindi ha giocato molto bene guardate la sua media 7.55 la sua fanta media quindi impressionante e ha fatto 6 assist quindi ha fatto una stagione fantastica anche se non ha giocato sempre però vi dico una cosa sull'attacco dell'Atalanta perché Ilicic ok lo conosciamo lo sapevo vi ho già spiegato Zappate invece non so se è la miglior scelta per la mia squadra perché quest'anno c'è questo giocatore che è arrivato vediamo se si carica che è Muriel e Muriel non lo so se darà fastidio a Zappate perché Zappate è molto forte ha segnato tanto però secondo me Zappate non è da spendere moltissimo perché l'Atalanta giocherà anche in Champions e secondo me molte volte sarà sacrificato Zappate in Champions e Muriel lo metteranno a giocare in campionato quindi se non spendete una folia per Zappate quest'anno perché secondo me Zappate giocherà meno in Serie A in campionato e al posto su prenderà Muriel e attenzione perché Muriel lo conosciamo è un giocatore molto forte chissà può anche diciamo fregare il posto diciamo non solo per la colpa della Champions ma per la bravura possa prendere proprio il posto del Zappate in tantissime partite quindi Zappate da titolarissimo diciamo dell'anno scorso segnando 23 gol qui dicono titolarità al 100% però non lo so se può giocare con Muriel oppure con Ilici ci volevo dire giocherà con Ilici così diciamo inizierà il campionato così però ho paura che Zappate poi rischierà diciamo di non giocare molte partite perché secondo me non ripeterà il campionato scorso e Muriel sarà sempre lì dietro sul fiato sul collo per giocare perciò non rischiate cioè prendete Zappate è bravissimo ma non spendete una folia non spendete il 40% del vostro budget ma neanche il 30% del vostro budget per comprare Zappate ok? questo è il mio nostro consiglio bene siamo arrivati alla fine queste sono le indicazioni che vi volevamo dare su chi prendere dell'Atalanta faremo il prossimo video sul Bologna quindi seguitici perché vi daremo poi le dritte anche per il Bologna mi raccomando seguici qui all'Accademia del Fatto e Calcio lasciaci un like lasciaci soprattutto anche la vostra esperienza quindi un commento cosa ne pensate di queste scelte di quello che abbiamo detto prima anche se vi sembra una cavolata scrivetelo perché ci date dei consigli anche a voi anche per gli altri che ci guardano quindi scambiamoci un po' di idee e ci vediamo al prossimo bellissimo video qua all'Accademia del Fatto e Calcio un abbraccio a tutti ciao